Cari amici, sui giornali di oggi domina la polemica su Leonardo, genio francese, ma un telegiornale solo per caso francese ha appunto stabilito che Leonardo da Vinci è un genio francese. Inoltre lo scippo sarebbe avvalorato dal fatto che Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, è andato a festeggiare con Macron in Francia, ad Ambois, il cinquecentenario della morte del grande genio italiano. Procediamo per idee chiare e distinte, sempre che ne sia capace. Allora, la prima cosa è che naturalmente ha fatto benissimo Mattarella andare in Francia perché si sta festeggiando il cinquecentenario della morte e Leonardo è morto in Francia, è sepolto, molti dicono che non sono le sue ossa, comunque la sua tomba è ad Ambois, Ambois sta in Francia e quindi è giusto che la cerimonia di apertura si sia svolta lì. Poi però c'è un altro ordine di considerazioni più importanti e qui effettivamente l'Italia ne esce proprio male. Primo, mentre in Francia si festeggiava il cinquecentenario, da noi a Milano il Cenacolo di Leonardo da Vinci era chiuso perché il Museo del Cenacolo ha deciso di fare il ponte e ha deciso di fare il ponte perché non c'era personale a sufficienza. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Orde di turisti si sono presentate davanti al Cenacolo e sono state respinte con perdita. Una vergogna italiana questa è. Un'altra cosa che lascia fortemente perplessi è che è vero che è giusto andare a celebrare l'apertura del cinquecentenario in Francia ma non c'è alcun motivo per cui l'Italia abbia, come dire, demandato alla Francia anche il proseguo dei festeggiamenti, delle celebrazioni. La più grande mostra su Leonardo, infatti, l'ha organizzata il Louvre. Questa è un'altra cosa che lascia stupefatti perché noi invece ci dobbiamo accontentare di mostriciattole in cui il pezzo forte sono delle risibili ciocche di capelli di Leonardo ritrovate non si sa dove. Ma la grande mostra, appunto, ripeto, è al Louvre. Questo è avvenuto con la grande gioia dell'allora ministro Franceschini e che nessun altro ha trovato niente da obiettare se non il direttore degli uffizi, che peraltro non è italiano e che è stato l'unico a dire che i suoi quadri non si spostano dagli uffizi. Ora, come sia possibile che Leonardo da Vinci, il quale ha lasciato il 99% delle sue opere in Italia, venga festeggiato al Louvre e non in un grande museo italiano, questo è veramente una cosa che lascia basiti, fa cadere le braccia. Forse non ci meritiamo davvero a Leonardo da Vinci. Grazie.